e gli altri mi vengono, quindi mi invito loro a questo Ci sono dei responsabili alla mia carriera universitaria che sono io quasi vent'anni fa, non proprio vent'anni fa a una visione per le post di sociologia ritenevo che fosse naturale, tecnologico, dei linguaggi che si esprimono da sempre attraverso i linguaggi musicali e dice anche di proteste di senso, molto rilevante di fare una tesi su 99 Posse e Alma Magretta Allora, ho trovato un docente che era illuminato sulla loro produzione musicale che stiamo vivendo in questo momento di passare, era il dicembre del 1990 di temi sociali, innanzitutto dell'intervento di Zurghi Certo, d'un comino con l'ordinato in crisi, perché? Su Alma Magretta è 99 Posse A parlare, per dire non lo stai dire Sascha ha bisogno di una tastiera, si spiega un'altra Però, se Sascha, per te, Sascha E che forse si ostina a Tazifrescia Che siamo diventati tutti vent'anni più vecchi No, sono cambiate tante cose Non è cambiata la cosa fondamentale che dovrebbe cambiare Ma noi questa lo sapevamo già che non cambiava E cioè, chi era povero, diciamo così, emarginato, marginale Non previsto, non compreso e in qualche maniera anche combattuto e arrestato Vent'anni fa continua a esserlo anche oggi La cosa che è cambiata è che il numero di persone Che sono interessate da questa politica è andato ingrossandosi sempre di più Oggi ci sono tra di noi, cioè tra quelli che vengono esclusi da qualsiasi possibilità di futuro Ci sono anche tantissimi che pensavano invece tra gli 80 e i 90 di averlo un futuro E di averlo anche bello solido E invece poi improvvisamente o per il fallimento dell'azienda o per altre contingenze Adesso si ritrovano a far parte della grande marea degli insoddisfatti Guarda, la cosa che si può dire più di tutto di questo disco Che dopo che l'abbiamo finito con tutti gli ospiti che ci sono Ci verrebbe subito di rifare di nuovo Curru Curru 3.0 Per invitare almeno altrettanti ospiti che non siamo riusciti ad avere in questo disco Perché è stato un lavoro che ci ha arricchito anche dal punto di vista delle collaborazioni Tanti amici che abbiamo rincontrato durante questo percorso di 20 anni E quindi, sentite la villa La strofa non me la ricordo, come faceva la prima strofa di Curru Curruaio? 2-2-9-1-9-9-1 Un giorno come tanti ma non certo per qualcuno Qualcuno che da giorni, mesi, anni sta lottando Contro chi di questo stato una gabbia sta facendo? E' un rime proprio elementare ma che comunque hanno, come dire, lasciato un segno Infatti sono entrate nelle scule elementari Grazie ragazzi In crisi, perché?